Di nuovo il più cordiale e ben interconnessi col mondo di Spreaker, Stefano Tini, Stapp Radio, Roberto De Angelis, RDA Radio 1 e tutti gli altri 18 canali che fanno parte del nostro consorzio radiofonico. Sono tanti, si stanno aggiungendo anche altri e noi siamo contenti che le nostre trasmissioni possano andare in differita anche su altri canali del mondo di Spreaker e vedere che i riscontri anche lì sono positivi. Quindi probabilmente rispondiamo anche alla signora Maria Vittoria, non abbiamo un segreto, abbiamo la naturalezza, la tranquillità, la chiarezza nell'esposizione delle nostre idee con le quali si può essere d'accordo o essere parzialmente o completamente discordanti. L'importante è che si crei una circostanza favorevole per poter dialogare di vita romana, quindi di Roma e della nostra cara amata Roma. Ma lo facciamo subito stavolta con un altro grandissimo amico che è Virgilio. Virgilio, buon pomeriggio, come stai? Buon pomeriggio, anzi è quasi buonasera perché ormai è alle 17 e notte a Roma. Bene, grazie. Esatto, di solito ti sentiamo prima, oggi leggermente più tardi, causa anche tante piccole situazioni che momentaneamente sembrano essere ritornate a posto. Allora, Virgilio, ti puoi immaginare la nostra chat come è in ebollizione? Ah, bolle, bolle. Bolle, poi ci sono colpevoli a 360 gradi, l'allenatore, il preparatore atletico, addirittura pure Sabatini, non so cosa possa centrare, De Santis che se ne deve andare a casa, Destro che deve cambiare squadra, questo è il riassunto praticamente in sintesi. E ci sono altri che invece dicono, vabbè, è una debug momentanea dalla quale la Roma si riprenderà. E vedrete già dalla partita con il Geno. Allora, partiamo per gradi, dalla partita contro il Sassuolo alla Coppa dei Campioni e la partita col Geno. È una Roma che sta in declino o invece che cosa altro è? Beh, in declino mi sembra una parola forte. Ve l'ho sentito anch'io tante critiche. Ma sai, questa è una città strana, caro amico mio. Qui per una vittoria ci esaltiamo, siamo i più forti del mondo, poi basta un risultato negativo per ritornare a dire che quello non è buono, quell'altro è una pippa, quello non vale niente, dobbiamo cambiare tutto. Questa è una città molto umorale, quindi io non è che do molto credit a tutti. Io li chiamo Romanissoni, Cesaroni, perché è una tifoseria che io non ho mai capito. La risposta più bella, guarda, l'ha data dopo la partita l'altra sera, la curva a sud. Credo che quella sia la risposta migliore da dare a tanti, che io chiamo i tifosi occasionali, oppure i tifosi da salotto, o i tifosi che giudicano la Roma davanti al televisore o perché dalla mattina alla sera ascoltano le radio. Sono umorali, sono tifosi così. Si può fare una critica anche giusta, ma non si può dire di una squadra dieci giorni prima che è una squadra che può arrivare al finale dei Champions, è una squadra che può vincere il campionato, e poi dopo 15 giorni di che la Roma è tutta da rifà, che è Sabatino un incompetente, che ha buttato i soldi, che Arsiano è buono. Cioè stanno sempre a fare i stessi discorsi. Io vorrei un po' più di equilibrio, ma in questa città è difficile trovare l'equilibrio. Dici che non c'è equilibrio? Prendo le distanze. Ma perché non c'è equilibrio? Non c'è equilibrio perché innanzitutto la Roma purtroppo nella sua storia ha vinto poco. E quindi è una squadra la Roma, è una città Roma e non dico provinciale perché poi qualcuno si offende. Però a livello calcistico siamo molto provinciali noi. Noi ci attacchiamo magari a un giocatore, lo difendiamo fino alla morte, guai a chi ce lo tocca. Poi quando analizziamo le partite ci viene spontaneo di difendere quelli che ci sono più simpatici e attacca quelli che ci sono meno simpatici. Purtroppo la comunicazione romana, scritta e parlata, è molto umorale, è furba, sale spesso sul carro, poi lo abbandona quando non gli fa comodo. È una comunicazione populistica, guai a chi tocca i totem, invece con l'altro si può dirgli un altro che si comporta male, che fa tardi alla notte. E' una città molto strana calcisticamente parlando, Roma, quindi non gli vado appresso, caro mio. Io vedo che la Roma è seconda in classifica. Tutti a dire che ci hanno rubato la partita a Torino, quanti ne hai sentite? Tantissimi. Quindi se lei vi, non dico che la Roma dovrà vincere perché sarei un presuntuoso e non lo sono, ma se la Roma dovrebbe pareggiare i risultati più giusti, mi pare, no? Sì, sì, sì. Ecco, allora, lei è un punto in più alla Roma, nell'evituale a Juve, oggi la Roma era prima in classifica, anzi si chiama la Juventus, quindi io non ho capito questi di che parlano. Oh, e perché tanta amarezza, la posso pure con... Amarezza, ma non è amarezza, io sono amareggiato. Eh, essere amareggiato... Per tanti è cattiveria, per tanti sono altri discorsi. Purtroppo questa è, ragione, se non è che ci nascondiamo il dito qui, oppure guardiamo la luna col dito e invece di guardare la luna guardiamo il dito. A Roma esistono le fazzioni di clan, non c'è niente da fare. Roma è piena di nostalgici e per nostalgici intendo tanti e tanti e tanti che sono rimasti troppo e forse legati a 18 anni di presidenza della famiglia Sensi. Ci sono un sacco di nostalgici del signor Zeman, che ancora non ho capito perché sono così innamorato di Zeman, io ogni volta che ci parlo vorrei chiedere il perché, no? Ci sono molti che non sopportano la società americana e quindi qua ci sono le fazioni. È antipatico dirlo, però purtroppo è così. Allora, quando la Roma va bene, tacciano, si nascondono. Quando la Roma, non dico che va male perché secondo me la Roma non sta andando male, dicendo che ha risultati altalenanti, riescono tutti fuori. Io li chiamo nostalgici, vedo belle, io li chiamo in un sacco di maniere, no? Purtroppo questa è Roma. Trent'anni fa non era così, caro De Angelis. Trent'anni fa la tifoseria era molto più unita. A Roma c'era un altro tipo di mentalità verso la squadra, verso la società, verso i giocatori. Purtroppo lo dico malamente perché poi faccio parte anch'io di sto carrozzone. Purtroppo la comunicazione a Roma ha pilotato e ha fatto dei tifosi della Roma, non dico di tutti, ma di una grande maggioranza, li ha fatti diventare tifoso di quello o tifoso di quell'altro. E però così non va bene, Prigilio, scusami. No, 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 è un interrogativo che può... Ma è normale che in una città come Roma abbiamo la fortuna di avere due giocatori importanti, ce n'è uno che ha giocato cento volte in nazionale. Bravo. Rossi ha giocato cento partite in nazionale. E a Roma ci devono essere i clani di Totti e di De Rossi. Poi chi vuole bene a Totti non so perché vuole male a De Rossi. Molti che vanno bene a De Rossi magari non vanno bene a Totti. Ma a te te pare normale? No, assolutamente. Questa l'ha creata la comunicazione romana. Vabbè, ma ci lasciamo influenzare così tanto dalla comunicazione? Ma io non mi faccio influenzare. No, no, tu persona. Ma ci sono tanti che si fanno influenzare. Ma per quale motivo? Rossi, tre anni fa, mi pare, quando cambiò gestione, ebbe, 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 per lui, lo dico per lui, no, lui disse una frase, no, finalmente fuori i papponi dalla Roma. Qualcuno si è sentito molto toccato da questa frase? Te la ricordi? Me la ricordo benissimo. Allora, certa comunicazione, da quel giorno gli ha fatto la guerra. Non è che lo giudica perché... Io pure quando gioca male lo dico. Ma non è che lo odio e ricomincia a dire Capitan Ceres, Capitan... C'è che Daniels... Hai capito come funziona questa città? Quelle sono offese. Noi giudichiamo il giocatore per quello che rende in campo. C'è la caduta e questo succede, a me non mi sta bene. Quindi io quando sento tutti questi criticoni, poi criticano una squadra che sta allotta ancora per lo scudetto, non dicono che la Roma ci ha avuto un girone quasi proibitivo in Champions. La Roma a livello internazionale ha dei limiti, perché chi ha il cervello lo sa. Io non ho mai detto che la Roma poteva vincere la Champions e chissà dove poteva arrivare, perché poi l'organico della Roma in Italia è importante. in Italia, se lo paragoni alle corazziate europee, vedi i limiti, no? Sì, 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 sì. E ci sono giocatori in Italia che ancora possono fare la differenza, ma a livello europeo camminano. Sai che vuol dire camminare? Te ne si accorta l'altra sera, sì. Me ne si accorta benissimo. E allora che stiamo a parlare? Allora se giudichiamo la Roma in Italia, è un discorso. Tutte queste critiche che gli ero fatte alla Roma perché non è riuscita a passare un girone, col Bayern di Monaco, campione di Germania, con Manchester City, ma chi l'ha vinto lo scudetto in Inghilterra l'anno scorso? Giusto. Ma di che stiamo a parlare? Che pure la Roma ha avuto la possibilità, perché poi tu sai che le partite vengono di episodi, no? E bisogna giocarle sul campo poi, chiaramente. Tu se pensi che quando abbiamo giocato a Mosca, a cinque minuti dalla fine della partita, la Roma era qualificata. Ma tu ti rendi conto come può cambiare il calcio, le opinioni? Su quello stupido cross non preso da nessuno è uscito il pareggio purtroppo dei russi. E allora sono riuscito a vincere una partita che non dovevano mai vincere, però sono riuscito a vincerla, perché il calcio è questo. Il calcio vive di episodi. Però io voglio dire, a cinque minuti dalla fine, la Roma era qualificata. Giusto. E ti vedi come cambiano le opinioni, i pareti. Però un conto è giudicare e criticare una prestazione, un giocatore, un allenatore, in buona fede. E un conto è farlo con la mala fede, con la cattiveria, perché? Quello del simpatico, quello del antipatico, quello lodi, quello non te sta bene. Roma purtroppo a livello di comunicazione molti si fanno influenzare, è questa. E non c'è niente, ormai sono anni che dura il discorso. No, no, e soprattutto è una battaglia che tu conduci da diverso tempo. Ma si riuscirà mai a cambiare mentalità a sta città? Non lo so se si riuscirà mai, io non lo so, perché io purtroppo non sono più un ragazzino alle 15 anni, 18 anni, non è che te posso dire. Se li sentimo fra 30 anni, e poi te lo dico e poi te lo spiego. Virgilio, ne prendo nota, fra 30 anni siamo in diretta su questa Leroma a parlare, a vedere se è cambiata la mente. A parte che qualche conduttore radiofonico molto legato a discorsi antichi, che comunque... Poi ci sono altri giornalisti che scrivono sul Corriere dello Sport, e tu lo sai meglio di me, che in questo momento il Corriere dello Sport odia la Roma, la odia, perché non è stato eletto da parte di qualcuno come il giornale di riferimento della squadra, della società, non della squadra, scusami. Della società, sì. Non lo so che hanno raggiunto un accordo con la Gazzetta dello Sport, no? Sì, sì, come no. Poi chi scrive sul Messaggero, tu lo sai che il Messaggero è il Corriere di Caltagirone, no? Sì. I Caltagirone tutti i giorni sul Messaggero non fanno altro che cercare di mettere i paletti, i zizzani, i cancelli, i lucchetti, perché la Roma vuole fare lo stadio, e tu lo sai perché Caltagirone è contro questo discorso perché non è stato messo anche lui nel Calverone, no? E perché non hanno affidato a lui la costruzione del nuovo stadio, è semplice. E qua come te giri? A Roma c'è solo che nemici. Qua ti massacrano per un pareggio, ma tu ti rendi conto? Oh, ma semplicemente parlare della Roma che scende in campo in situazioni e positive e negative secondo i risultati che ottiene, chiaramente, è così difficile, è così complicato. Boh, non lo so. Per me è per te meno complicato. No. Io quando la Roma mi gioca male, lo dico. quando vedo che le cose non vanno bene, le dico, ma io lo dico perché le vedo e giudico in base. Ma non è che massacro tutto in base a un risultato, perché non siamo riusciti a passare al girone di qualificazione con due potenze, non solo economiche, non solo economiche a livello calcistico, ma con due potenze che sono due squadre importanti che sono molto voi tra parenti su cui abituate a una falacine, ma c'è paragone. Ma non c'è paragone, no? Allora diciamo che la Roma ci ha deluso perché ci aspettavamo di più, che magari la Roma al primo tempo, cioè mezz'ora del primo tempo, ha giocato alla pari, poi bastano due battute, lo sai che poi bastano degli episodi, no? La Roma c'è avuto due occasioni clamorose per segnare l'1-0, non l'ha fatto. Quelli hanno fatto un tiro fantastico, bellissimo, hanno preso il palo, la palla è entrata, tu prendi il palo e la palla esce. Stavo sempre a parlare di episodi, però si può dire, magari la Roma è sotto tono, la Roma a livello fisico al secondo tempo è calata, mi aspettavo molto di più da Maicon, mi aspettavo molto di più da Totti, mi aspettavo molto di più da chi ti pare a te, no? Esatto, sì, 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 sì. Per una partita, per un risultato negativo, massacra tutte e tutti e ricomincia a dire, Garziano è buono, e quello è vecchio, e quello se ne deve andare, quello è una pippa. Oh, però, però, adesso vediamo un attimo il rendimento sul terreno di gioco, se Maicon ha un ginocchio fuori posto... E che fa se deve lagliar ginocchio? No, 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 aspetta! L'anno scorso ha patito di meno. Eh, aspetta, allora, tu lo schieri in Coppa dei Campioni nella partita decisiva non ti puoi rendere come sa rendere. È sempre una sicurezza oppure dovevi trovare un'alternativa? Ma la Tassi che ha sbagliato l'allenatore era meglio forse al secondo tempo che giocava a Florenzi. Che in quel ruolo si è adattato anche pure abbastanza bene. Però Florenzi è ormai diventato il Gioli da Roma, quando c'è un buco fanno giocare a Florenzi da tutte le parti e meno male che abbiamo Florenzi, no? Eh, manca solo che si mette in porta. Se si mette in porta l'ha fatti tutti i ruoli. Però voglio dirti, questa è una critica sana, una critica sana, che si può fare all'allenatore, no? Sì, sì, come no? Ma no, ma da questa dica che si capisce niente, te ne devi andare. Non sei da Roma? Poi quando mi dicono non sei da Roma, no? Eh. Ma perché la Roma che è il Barcellona? Fatemi capire. Io vorrei parlare con questi, no? Non sei da Roma. Ma che vuol dire se sei da Roma? Ma che è la Roma il Barcellona, il Madrid? Ma io non ho capito. Che vuol dire? No, no. Questo no. Bisogna stare con i piedi per terra e non dare, sparare principi teorici solo per il gusto di spararli, insomma, eh. Io non lo so, guarda, c'è troppa cattiveria intorno alla Roma, troppa, troppa. Purtroppo, purtroppo si è imbastardita. E questa è colpa della comunicazione romana che ha influito tantissimo sui giudizi di molti di noi, di molti, di molti, di molti, di molti, di tanti, Virgilio, ti posso interrompere un attimo perché mi stanno passando adesso una comunicazione di cronaca. C'è stata una scossa di magnitudo 3.2, quindi terremoto a Modena a tanta paura come durante il sisma del 2012. Per il momento ci sono solo delle infrastrutture danneggiate e lesionate, non ci sarebbero né feriti né vittime, per cui, per il momento tiriamo un sospiro di sollievo. quella gira una terra martoriata. Ecco, apposta, quindi, e ricordiamo sempre, e questo lo ricorda Giovanna in questo istante che sta scrivendo di tutto e di più, in ripetibile, stiamo parlando di pallone, Giovanna, non stiamo parlando della malattia tumorale di qualcuno, mi raccomando. Cioè, le cose... Che c'ha Giovanna? No, Giovanna, vabbè, c'ha dei dolori di pancia, mettiamola così. Vabbè, ma dove che passa se sono delle medicine per fargli passare. Esatto, no, no, sono molti dolori che anche con le medicine non passano. Noi ci sfoghiamo, ci lanniamo, basta una camomilla. Capito? Evidenziamo determinate situazioni ma ricordiamo che stiamo sempre parlando di calcio, non di cose più gravi, irrimediabili. Per cui, se adesso la Roma troverà gli opportuni accorgimenti, bene, benvengano e ci mancherebbe altro. Giovanna, non remiamo contro la Roma, ma chi l'ha detto? Soprattutto, se poi segui quelle persone che mi hai menzionato, continua a seguirle, però l'importante... queste persone... Eh, eh, Virginia. Allora, continua a seguire le persone che mi hai scritto in chat, se pensi che loro dicano la verità, benvengano, ci mancherebbe... Ma, buono, qui la verità non la dice nessuno. Eh, apposta. Noi esaminiamo... Io c'ho la verità, tu c'hai la verità, nessuno qua parla col Vangelo in mano. Però purtroppo ci sono molti che esprimono certi giudizi e hanno certe opinioni che magari manco pensano, però siccome lo devono dire e lo devono fare, lo fanno. Sì, sì. E poi io vorrei che molti capissero che tanti non parlano in buona fede. Io posso sbagliare, ma io parlo in buona fede. Sì, sì, tu dici quello che pensi, ecco dove sta il punto. Ci sono molti che dicono quello che non pensano e lo dicono perché gli fa comodo dirlo. O perché qualcuno dall'alto gli dice parla in questa maniera. Io non riesco a capire certi tifosi. Io dico adesso non è che so presuntuoso che voglio dire che so più intelligente, più astuto, più scaltro degli altri, no? Ma dopo tanti anni ma ancora non hanno capito come funziona Roma. Ma io non riesco a capire ma quando si svegliano? Esatto. Quando è che usano la loro testa e la loro mente? E non si... con il cervello degli altri perché hai sentito qualcuno dagli altri. Io mi ricordo quando ero piccolo ma tanti anni fa no, la gente diceva comune, la gente dice no ma ha detto la televisione. Sì 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 me lo ricordo questo modo di fare. Senti, Laura scrive io vi seguo sempre e seguo anche Virgilio su Reteora. A proposito, Virgilio ci sarà pure questa sera al Tribunale delle Romane dalle 21 e 15 alle 22 e 15 con Guglielmo Timpano e Capuano e Alberto Fian e tanti altri amici che parleranno delle due squadre Romane su Reteoro canale 18 alle ore 21 e 15 però vorrei esprimere la mia opinione e chiedere qualcosa a Virgilio e ci mancherebbe altro che non lo puoi fare. Secondo Virgilio non è che deve essere sostituito destro con un altro centravanti più idoneo e soprattutto cominciare a far giocare di più Skoruski visto che De Santis è in netta discesa? Ma su Skoruski secondo me è un portiere che può essere il futuro portiere della Roma perché non mi pare poco affidabile ancora giovane ma c'è tutto il tempo per maturare l'altra sera comunque non avrebbe potuto giocare perché ha avuto dei problemi destro su destro non è il mio centravanti ideale io te l'ho sempre detto nella mia destra io ho altri tipi di centravanti però destro se non gioca tutte le domeniche ma se destro non lo giudichi almeno 5 partite una dopo l'altra in cui lui si sente investito veramente del ruolo dell'importanza ma come fanno a giudicare destro che gioca Mossi che bocconi lui si sente un tappabuchi destro in questa squadra si sente un tappabuchi siete d'accordo su questo almeno sì sì come no allora una volta gioca perché non gioca con l'altro allora quando gioca con Milano lui non gioca quando giochiamo contro il Cesena si fammolo giochia poi giochiamo contro si fammolo giochia cioè io non ho tu hai visto qualche squadra in Europa giocare senza il centravanti me ne dici una in Europa chi gioca senza il centravanti a Roma la Roma sì sì è bassa anche perché non va venissero a parlare del Barcellona perché il Barcellona c'è giocatori come Messi e Neymar che segnano quando io parlo ma si sogna mi segui? sì sì o volemo dire che Totti ha lo stesso la stessa profilicità ho detto male? no no l'olificità però l'olificità di Messi che ha segnato 70 gol in Champions League cioè l'unica squadra in Europa in Italia che gioca senza il centravanti è la Roma quindi questi come fanno a giudicare a destra? secondo Fabio che sta scrivendo in questo momento da largo pre-nest un salutissimo al grande Virgilio sarebbe ora di girare pagina di cominciare a mettere Totti in panchina farlo entrare agli ultimi 15 minuti e lì metteci in centravanti che sfonda la rete io dico la rete ha usato un'altra parola che sfonda a tutti perché il lavoro che si fa sulle fasce che è enorme non può essere sfruttato perché non abbiamo un centrale di attacco questa è la verità Francesco Cavalluzzo poi capisco che è l'ultimo rimedio ma vista la situazione di emergenza se qualche partita la facciamo fare pure al turista Boriello Virgilio che risponde? Boriello c'è avuto un sacco di problemi fisici ultimamente ma Boriello può essere comunque ancora utile ogni tanto magari quando devi ricoperare il risultato soprattutto fuori casa o in casa ancora meglio cominciò a far crossa del qua e crossa del là lui fisicamente di testa è bravo può essere anche utile è uno che fa sportellate dentro l'aria è valido però Boriello è il classico centravanti che secondo me con il 4-3-3 centra poco hai visto come gioca Geco? si si poi veniva l'infortunio c'è Geco il vice a Ghero qui stiamo a parlare un altro modo cioè quelli che si fa male a Ghero e gioca a Geco oh ma se portiamo se portassimo Geco alla Roma sarebbe il centravanti ideale per Garzia a parte prendere un stipendio da paura ma magari venisse Geco io farei salti di gioia caro mio e si è vero e appunto perché stiamo a parlare magari fosse magari fosse ma il fatto mentale e reale di girare pagina e di cominciare a inserire Totti in panchina e poi farlo entrare a partita in corso io ancora non ho capito c'è l'alternativa a Totti no? eh cioè la Roma con Totti fa un termine tipo di gioco ormai lo sanno tutti la Roma senza Totti per me è un ibrido perché più di una partita da destra gioca e vabbè c'ha pure le racchie c'ha però no di chi parli è Totti o di destra no no di Totti no voglio dirti la Roma è la gioco della Roma in attacco è basato soprattutto su Totti no? no perché Totti fa il centroavanti che Totti sono quattro anni che fa la punta avanzata perché ormai dentro l'alternativa non ce va mai no? sì la Roma bisogna giocare con gli sterni o con i centrocampisti che si buttano in aria Totti con il suo piede fantastico e ogni tanto va bene ma poi 30 dell'usa per i 39 anni no? ne ha fatti 38 a settembre stiamo a gennaio devo dire quindi voglio dirti non è che puoi basare il gioco della Roma tutto Totti e quindi secondo me Garzia dovrà dovrà prendere la decisione provarsi a giocare con il destro oppure quando Totti non vuole giocare con il destro Totti lo vedi che non sta al 100% avanza Pjanic mi segui? sì sì che fa? avanza Pjanic al posto di Totti gioca sempre con i due esterni alti e al centro capo fa giocare in questo momento De Rossi Keita e Nainggolan poi quando rientra Strottmann farà giocare a Strottmann ma c'è che bisogna essere uno scienziato per pensare a questo bisogna avere pure le condizioni ambientali bisogna avere un po' di polso fermo alt e questa città lo fa giocare Totti non è facile allora non è è sempre lo stesso discorso nessuno lo vuole sminuire però credo che quando c'è un giocatore di 38 anni puoi pure pensare no? di giocare due, tre, quattro partite senza Totti perché Totti condiziona troppo il gioco della Roma nel bene e nel male quando sta bene nel bene ma quando non sta bene e nel male ma se può dire o è l'essa maestà no 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 qui lo stiamo dicendo arriva subito la prima chat di Valentina giù le mani dal grande Francesco e tu giù le mani ma chi va lo troppo per carità lupone 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 de luponi e chi è questo? vabbè lupone lupone luponi vabbè però è simpatico dai senza Totti si spegne la luce Virgilio ho capito che è vecchio ma a posto del vecchio non ci avevamo niciuno ma guarda questa cosa che si spegne la luce leggenda metropolitana potrebbe anche essere vera no ma se io ci metto due secondi all'accendere la luce è un discorso se ci metto un quarto d'ora all'accendere la luce è un altro ho sbaglio si si nel calcio moderno nel calcio moderno se non sta bene fisicamente al 100% non puoi giocare non puoi giocare manco Maradona e Pelè a 39 anni erano più Maradona e Pelè ho fatto due esempi che non c'hanno niente al caffè dei cottotti eh siamo a parlare del cate siamo a parlare del cate ma se torniamo solo per farti capire si si non è che si vive De Gloria certo si 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 però si vive soltanto De Gloria passata se torniamo indietro negli anni al di fuori dell'ambito giallorosso ci fu un acquisto anni e anni fa eravamo giovani noi che fece scalpore perché il Napoli aveva messo in naftalina cos'è Altafini e la Juventus se lo comprò diciamo così per un tozzo di panni e giocavano pure con un altro monumento che erano marsevori bravo allora si portarono si portarono Altafini che aveva 37 anni lo misero in panchina ci aveva nelle gambe solo 10 minuti ma siccome Altafini era un vecchio lupo di mare quando entrava molto spesso prendeva e segnava e ribaltava pure partite che erano una testorte per la squadra bianconera allora la mentalità giusta è anche capire che quando le tava ma Roma non c'è questa mentalità a Roma vivono di icone dei monumenti si può vivere di icone dei monumenti ma sai che io cioè stamattina no 10 anni fa parlavamo così tra amici qui al bar no? eh facevamo così sai che noi ogni tanto sogniamo giochiamo con le squadre e le formazioni no? si 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 come alzano che ne pensi se compriamo quello quello e quell'altro no? fammi una formazione ancora ci mettono Totti il prossimo anno in squadra a 40 anni ma con che di che vuoi parlare? a Roma se non ci scogliamo sta mentalità provinciale e non vai avanti qua una squadra non può essere Totti dipendente cioè Totti dà il suo contributo ma se non gli ha dato tanto è stato un giocatore fantastico ma chi gli ha i meriti e regressi ma chi gli ha li toglie? nessuno di fatto a 32 non puoi fare basare una squadra con un giocatore di 39 anni ma non l'ha fatto nessuna squadra neanche se c'aveva uno Pelè e Maradona e stiamo a parlare di Pelè e di Maradona non di Totti si 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 invece qua lo mettono addirittura nella formazione di Solare del prossimo anno ma di che vuoi parlare? ma di che vuoi parlare? non ci scrolliamo di dosso nel bene e nel male i nostri miti i nostri punti di riferimento questa è una città così è bella perché è bella Roma? perché è passionale perché ama ama i suoi figli in cui Roma è questa no? però poi ci stanno pure i figli e i figli altri e qui t'hanno avanti scuazia dei rossi si 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 ma secondo te non è stato un po' troppo calunniato l'uomo dei rossi piuttosto che il calciatore ma te l'ho detto perché l'hanno calunniato perché lui si è permesso di dire pubblicamente finalmente fuori i papponi da Trigoria e qualcuno si è sentito toccato nella comunicazione romana e da quel giorno gli hanno fatto la guerra e al primo rovescio di Boe in diretto a essere calcistico hanno aperto il fuoco mediatico è così e questa è la verità se a qualcuno non gli sta bene se mettesse in testa su questo lo so perché questo lo so io direttamente su altre cose no non è che io c'ho il Vangelo ma su questo non mi sbaglio questa è la verità a Roma hanno fatto figli e figli astri a Roma purtroppo la minima ombra di paragone e di confronto Virgilio in conclusione la partita col Genoa che partita sarà? è difficile la Genoa è una squadra in forma è terza classifica è una partita difficile non è che sia una squadrona il Genoa non è che precisamente il Genoa è diventato però è una partita complicata poi loro corrono molto è una squadra che corre parecchio stanno bene fisicamente e quindi è difficile anche se poi tutto sommato a Genoa non è che poi abbiamo tutta questa tradizione negativa abbiamo perso qualche volta pareggiato pure però tutto sommato comunque noi siamo la Roma dobbiamo reagire subito la Roma deve andare a vincere se dobbiamo reagire intorno al discorso poi alla fine della partita giudichiamo la partita la prestazione ma la Roma deve andare a vincere la Roma tra Genoa e Milano deve fare 6 punti poi c'è la sostanata lì se ne riparliamo a gennaio ecco speriamo che queste due parole poi siano supportate dai fatti futuri ci lasciamo con il più caloroso e formidabile Forza Roma grazie a te del tuo intervento e soprattutto ci sono tante persone che hanno scritto sia in favore che contrarie ma avere tanto basta che lo fanno in buona fede sì per carità e poi se esprimono giudizi in maniera civile garbata e concreta è sempre accettato ricordiamo che stasera Virgilio sarà al Tribunale delle Romane sul canale 18 intorno al canale 600 se lo volerete vedere in alta definizione HD tanto per capirci al volo e poi ci sarà una replica a mezzanotte un'altra anche alle 3 e 30 di questa notte per cui per tutti i gusti sentiremo questa bella trasmissione peccato solo per il nome tra un po' a uno dei protagonisti chiediamo perché ha scelto questo nome poi vediamo non dire a me perché non mi piace no nemmeno a me di fatti Virgilio un grande abbraccio e grazie ancora saluta il signor Timpano ciao certo grazie ciao ciao ringraziamento così all'amico Virgilio sempre infuocato come al solito Katia sono d'accordissimo con Virgilio magari tutti parlassero così Bruno bravo Virgilio gliel'hai suonato Antonella complimenti a Virgilio e via discorrendo prendiamo Annalisa che non è la nostra logopedista Annalisa dice Virgilio ha tutto un modo suo di vedere che non corrisponde però alla realtà qui 5 giocatori se ne dovrebbero andare Irene mandate via qualcuno dalla Roma perché non è più degno di giocare con questa squadra Irene però non ci possiamo fossilizzare semplicemente per due partite che non sono andate dovremmo avere un maggiore quadro della situazione per poter valutare più serenamente tra qualche istante il prossimo collegamento rimanete con noi Stop Radio per chi vuole c'è anche l'oroscopo della settimana e le previsioni medie o del fine settimana Roberto De Angelis col prossimo ospite tra qualche istante grazie